Verso i sogni Sombattimi Come se il sole Li portasse via con sé E non basta neanche Il suono della gente Dentro questa mia Stanza non si sente L'eco della mente Aspetterò che il sole dorma E poi scomparirò fra le onde dell'oceano E non basta neanche il suono della gente Dentro questa mia Stanza non si sente L'eco della mente Perché ti seguo da giornalisti zuzzi? Dai, andiamo a vedere questo momento Andiamo a vedere questo momento Bene Ora ti trovi al Nexus Al Nexus, ok Sì, ma non devi ripetere tutto quello che dico Hai ragione, scusa, non devo ripeterlo Tu sei un campione Come fai a dire che sono un campione Se non ho mai giocato prima d'ora E' per dire Tu controlli questo personaggio Ossia un campione Ok Devi distruggere il mio Nexus Il Nexus Ok E per farlo Devi distruggere tutte le strutture Che incontri lungo il percorso Ossia le torri E l'inibitore Come? Lo so Me lo sento Tu sei l'eletto Riuscirò a farti vedere Matrix Costi quel che costi Matrix, Matrix Non il film Intendo Matrix Cosa? Ecco Devi essere più nerd Pensare da nerd Avrei dovuto prendere la pillola blu Vedi? Non tutto è perduto Che cosa? Ok Scherzavo Mai una gioia Mai Mai una gioia Che è successo stavolta? Volevo fare River Song Ma a me che si riesca a trovare i vestiti adatti E chi te l'ha detto che avremmo voluto fare il cosplay del Doctor? Già Tra l'altro io che avrei dovuto fare? Non ho l'età per fare Ten Ten? Il miglior è Eleven Quanto che vuoi saperne? Ten è il miglior dottore dell'era moderna No, è Eleven E' Ten Eleven Ten Eleven Ten 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 Senti, perché non fai un Suntaran? Così la chiudiamo qui? Ecco Ecco, guarda, la faccia alla tuba e la gioccelai E questi sono i Minions Questi sono tutti i miei Sono PNG Ma si muovono, saranno GIF, no? Dani Tecnica Oh Dani Dani Sta per personaggi, non giocanti, quindi non puoi controllarli Ho capito, ma come faccio a comandare i miei Minions di aiutarmi? Facciamo così Proviamo a sentire che dice il tuo Sensei Io intanto vado a prendere qualcosa da mangiare E' la tua signora? No, è il tuo rigazzetto Operatore Daniele? No, Sensei Sensei, sono Lorenzo Oh, ragazzo mio Che c'è? Sì Sensei, volevo chiederle Ma come faccio a distruggere il Nexus E tutto quello che c'è lungo il percorso Con quei mostriciattoli piccoli I Minions Quelli che non posso comandare Che ci devo fare? No, 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 no Tutto quello che puoi fare è uccidere i Minions avversari E quando pensavate di dirmelo che ci sono anche quegli avversari? Scusa, ma come pensi che possano giocare gli altri senza Minions? Comunque, quei mostriciattoli andranno in automatico verso gli obiettivi nemici E tu dovrai aiutarli a rompere le strutture una ad una lungo il percorso Ho capito Quindi uccido i Minions avversari più velocemente dell'avversario Fermo, fermo, non hai capito Io adesso devo salutarti Tu continua a farti spiegare da Daniele Tienilo ancora occupato Tra un po' torniamo con la cosa per tu sai chi Dimmi che almeno Harry Potter l'hai letto Certo che l'ho letto Però da quando è morto Spoiler! Avevo detto che volevo fare River Song Mai una gioia Ma ma pensa che io volevo fare Laura Palmer Eeeh, quanti stenti e quante privazioni Siamo noi che siamo preparatissimi A certo consentito Ciao Francesca Al mio segnale sai cosa devi fare eh Dov'è Daniele? È andato in libreria Cercava un LOL for Dummies per Lorenzo Bravo il mio allievo Bravo il mio allievo Sì, sento dei passi, sto arrivando Sì, sento dei passi, sto arrivando Sì, sento dei passi, sto arrivando Ma che è? Revolution? Bellagogo Amori 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 Bilego Il Ego ! Il Ego ! Oh, è fantastico ! Questo andrà subito nella mia collezione! Vorrei ringraziare la mia famiglia, i miei amici, il gruppo di LudoSport... l'Icon, la Kiki, i Tasa e anche i Tasa. Senza di voi non avrei mai raggiunto questo obiettivo. Ottimo, ti parlo dai 88. Ti sei appena guadagnato una bella parte da tradurre in Grace Anatomy. Ma anche no! E cos'hai contro Grace Anatomy tu? No, niente. Marguerite, Grace Anatomy. Fa davvero schifo. Ma dai, ma dai! Mi lego! Ma è una gioia! Ma... Ma Lorenzo dov'è? Eh? Si è pure tanto la cravatta. E' bravo che non mi fa da voi. Cosa? Cosa? Cerca di pensare meno alle kill. Alle? Alle kill e pensate sui grips. Sui grips? Ok. Ancora, vuoi girare. Sto durando altissimo, bravo. Chi ho quello è spento, chi ho lo è spento, chi ho lo è spento. Aspetta. Chi ho lo soffritto? Sbrede. Chi ho lo soffritto? Chi ho lo soffritto? Aspetta. Chi hai soffritto la cravatta? Sbrede. Verso i soli E non perdete il prossimo episodio Di Acqua, la serie Luce fra i solchi State of cosplay Ora invadimi Senza confini Sombattimi